Mosè, il principe d'Egitto, uno spettacolo inscenato dalla Mivas, pronto a spiazzare tutti il prossimo 29 ottobre presso il Teatro Cielo d'Alcamo. Quest'anno fra gli attori anche un ipovedente e abbiamo per voi raccolto le interviste. Tutto pronto a rappresentare il musical Mosè e il principe d'Egitto. Non è la prima che facciamo rappresentazione, bensì la dodicesima, ma c'è una grande richiesta di questo spettacolo, in quanto succedono delle grandi cose quando noi lo interpretiamo. Di spettacolare è un miscuglio di emozioni, bellissimo. Fino all'ultimo sono i piccoli ritocchini, ma che perfezionano l'opera di per sé, a meno per quanto riguarda noi attori. Cercheremo fino all'ultimo di essere impeccabili, considerando che non siamo professionisti, però ci mettiamo il cuore nelle nostre cose. Siete una compagnia amatoriale che la sera fa grossi sacrifici per fare le prove, vediamo in questo momento le immagini. Sì, ogni sera, perché giustamente si lavora, siamo amatoriali, quindi siamo piccolissimi, ma nel nostro piccolo cerchiamo di dare il meglio. La sera dopo le 21, tutti in prova, dai piccoli, considerando che siamo una compagnia di circa 70 persone, partendo da bambini di 4 anni fino alle tenere età di 85 anni. Non solo giovani, ma famiglie, perché entrano i ragazzi e poi piano piano entrano anche i genitori. Ed è bellissimo, un connubio perfetto fra famiglia, teatro, che ci unisce, passione e aiuta anche a interagire con i propri figli. E stranamente la famiglia comincia a parlare. Quest'anno ancora un'altra novità. L'Unione Ciechi sta collaborando con noi, quindi potete immaginare che è un grande miracolo. Persone che non possono giustamente avere la vista, ma con noi cammineranno, saranno frustate, perché faranno gli ebrei. Quindi saranno all'interno dello spettacolo appieno attori, come se non c'è differenza fra noi. Abbiamo qui presente con voi uno degli attori. Come si sta trovando in questa famiglia? Mi è stata proposta questa occasione, la sto sfruttando per divertimento. Alla fine, a parte il limite, la vista non è che cambia tanto con gli altri attori. Per quello che possa, insomma, sono qua. Assolutamente. Quali sono le emozioni che si provano in scena? Io, come esperienza di scena, non ne ho tanta, però penso che sia abbastanza simile a quella degli altri. Ho vissuto la partecipazione alla creazione di un progetto, di una storia, dei valori che questo rappresenta. Mi piace, entro complessivamente, perché sono valori universali che sono sempre tristiti e sempre tristeranno. Ricordiamo l'appuntamento? Allora, ci vediamo, mi raccomando, puntualissima, alle 18.30, il 29 ottobre. Vi aspettiamo con Mosè e Principe d'Egitto.